Siamo di Loreto, prima vittoria per il Palestina, non avete giocato la scusa settimana, ma adesso chissà quando si riprenderà. Una gara combattuta, Palestina che alla distanza è cresciuto molto, con una buona boleale. Il rotto e la squadra, a parte della classifica, la prova chiaro per partire 7 punti, noi siamo venuti qua e cercando di fare la partita, ci siamo riusciti sin dall'inizio. Penso che il risultato alla fine è stato premiato e si è giusto. Al di là che adesso chissà quando si riprenderà, come dicevamo, poc'anzi, il mercato è ancora aperto e sono previsti ultimi colpi da parte del Palestina o il mercato è chiuso? Penso che per adesso sia chiuso, stiamo cercando soltanto di rafforzarsi con qualche anno, abbiamo un problema con il 2002 per ruolo di difensore, stiamo cercando, adattimo insieme alla società di cercare di giocare di rafforzarsi e penso che gli Andri sono elementi fondamentali per la squadra. Dunque ancora qualche ritocco in questi ultimi giorni, non è probabilmente chiuso il mercato? No, per noi no, fino a 3-2 abbiamo tempo e cerchiamo un ultimo colpo per quanto riguarda la categoria degli Andri, nel momento che noi non abbiamo la riunione se dobbiamo essere coperti in quel ruolo. Non si dovrebbe giocare fino al 24 novembre? Lei spera in un ripensamento da parte del governo? La Serie D gioca, che sono dilettanti come voi? Questa è la speranza di tutti, il problema è che purtroppo i contatti stanno aumentando di giorno in giorno, penso che prima di tutto viene la salute e poi viene la salute. Però non è paradossale che gioca la Serie D che sono dilettanti e voi no? Non fa riflettere? Non devo dire. Purtroppo ci stanno direttanti di Serie A e direttanti di Serie B, come il fatto che credo che uscito per i regionali e per i provinciali. Io non trovo giusto che un ragazzo di 16 anni che gioca nei provinciali non giochi e un ragazzo di 16 anni nei regionali giochi. Perciò lascio agli altri, però la mia team la so fatta questa volta. Aldobrando Franceschini, sconfitta Mara per la Boreale contro un buon palestrina, avete lottato fino alla fine. Nel finale forse mi è mancata un po' di lucidità? Sì, sicuramente. Anche se loro hanno messo il piano fisico in maniera molto determinata, hanno cercato la vittoria con più cattività. Ecco, adesso chissà quando si riprenderà dopo quest'ultimo decreto da parte del governo. Mi fa pensare che la Serie D va in campo e i campionati regionali no, essendo se ne siete direttanti come loro. Adesso secondo me è stato il nostro problema oggi, perché eravamo convinti di non giocare, si gioca o non si gioca, si gioca o non si gioca, oggi abbiamo fatto come se fosse una partita di tene stagione. Non è così, non è così. Loro invece sono entrati in campo con una determinazione diversa, con una cattività diversa e questo noi abbiamo pagato. Ora, per quello che riguarda l'imposizione del campionato, non so, sentiamo cosa dicono i nostri governanti. Speriamo di poter giocare. Sinceramente farei giocare tutti, farei giocare con i protocolli che stiamo utilizzando. Siamo una protezione enorme da parte delle società. C'è un lavoro a monte pazzesco, per cui non so, non vedo queste differenze. Ci potrebbe giocare tutti. Il mercato è ancora aperto, anche per voi mancano 5 giorni alla chiusura della prima finestra. La Boreale è ancora attiva oppure non sono previsti nuovi innesti e nuove partenze? No, non sono previsti nuovi innesti e partenze. Questi siamo e questi arriviamo fino alla fine.